WAHEI KUJUBER RETROVATI DA VOSTO RONDALINCVANT 1 SU YOKAI WATCH 3 La prima cosa da fare appena iniziamo questo episodio è andare all'agenzia investigativa Per qualche strana ragione Dopo aver lasciato i volantini in giro per i punti strategici della città dove passa più gente E' il momento di vedere se è arrivata qualche richiesta Non penso che nell'arco di qualche minuto possa essere arrivata però Chi lo sa Ciao Blantapiro c'è qualche incarico oggi? Oddio in teoria nel gioco è passato una giornata intera perché lui è andato a dormire quindi potrebbero esserci Comunque sia non ci sono purtroppo Ma è impossibile Insomma anche quei manifesti non sono serviti a niente è solo un giorno è passato dategli tempo no? Aspettiamo ancora un po' Sento che qualcosa arriverà Beh speriamo Non ti butto giù niente right Luna? Beh meglio così Una ragazza molto positiva Eccolo Un incarico Che diamine Non c'è nessuno qui Ero annoiata quindi ho creato un blog sugli investigatori del mistero Blog? Poi ho chiesto al socialbero di condividere il blog online Le visualizzazioni sono alle stelle Cavolo devo trovare un socialbero allora Voglio vedere questo famoso blog fammelo vedere now Guarda qua Ecco guarda com'è bello Ma che dici? Nessun mistero è un mistero per noi Per Conan un mistero non è più un mistero Calza a pennello Calza a pennello in nome Conan per l'agenzia Per l'agenzia Conan nessun mistero è un mistero Vedi? A volte le coincidenze Però purtroppo Usapion ha la faccia di un maledetto funghetto Beh funghetto è più popolare di te quindi Mi chiedo a chi si è riferito A Hello Kitty? Hello Kitty è un gatto Oddio Hello Kitty in Giappone Ad Akihabara più che altro Sanrio La società appunto che produce Hello Kitty Che poi tra l'altro ci ha fatto anche un anime Yaoi Non proprio Yaoi Però insomma Diciamo che l'idea era quella L'anime che hanno fatto pure comunque sia È esploso incredibilmente in Giappone E penso che funghetto Sia l'equivalente di Hello Kitty in Yo-Kai Watch Hello Kitty ad Akihabara è un successo incredibile In tutto il Giappone In tutto il Giappone comunque sia È un successo incredibile Quindi penso che comunque sia sia ispirato a Hello Kitty Direi che ho avuto l'idea geniale E non è male come idea no Sconigliata Piantala subito perché mi stai davvero facendo orbitare i satelliti Usapion È il personaggio più bello Di tutto Yo-Kai Watch Non usa parolacce Ma Ehi Mi stai facendo orbitare i satelliti Ragazzi è eccezionale questa cosa Certo Il più bello dopo Velenotto È sia chiaro Velenotto non si batte il migliore Salve agenzia investigatori del mistero Conan Sì Certo Vorrebbe che conducessimo un'indagine Sì ok Certamente Geniale abbiamo un incarico Ora avremo un bel po' da fare Ascolto Sapion Ti sto ascoltando canaglia Dunque Ecco gli incarichi che abbiamo ricevuto Andiamo Che diamine Passiamo a questa maledetta indagine Vabbè Calmati Completa tre missioni chiave Su cinque Oddio Devo fare altri due episodi No oggi non ce la faccio Ragazzi a fare altri due episodi No 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 Oggi ne facciamo uno e basta Perché non ce la faccio oggi proprio Mi dispiace ma Oggi proprio no Si dice che nei pressi della stazione di Scintiglia Ci sia un ciclista con Binagwai Che ispira tutti a gare in bici Andiamo Questa qui ragazzi Se non abbiamo la bicicletta Vi giuro Su Sushi Io la bicicletta L'ho presa così Non l'avevo completata subito L'ho completata dopo un bel po' Questa Questa missione E Quello lì Dopo che ho vinto la gara Mi è andata la bicicletta Però noi ora ce l'abbiamo È possibile avere qualche informazione in più Sull'incarico Iva Sport Che poi lei è quella che sta Al negozio di sport Lì a Val d'Oro Se non sbaglio Di recente Fuori dalla stazione di Scintiglia È apparso un fan del ciclismo Spira tutti a gare in bici Senza esclusione di ruote Ma proprio tutti Beh Sembra fastidioso Dovevo andare a un concerto E non vedevo l'ora Ma lui mi è bloccata E per colpo suo Non sono arrivata in tempo Ah Avrei voluto vedere il concerto Delle vicine armioni Dall'inizio Inutile piangere sul latte versato È davvero fastidioso Puoi farlo smettere? Capisco Vediamo cosa si può fare Grazie Per favore Qualcosa Ci penso io Andiamo Quello sconigliato Della pasta è la liscia Dove sei Sconigliato Eccolo qua E quella bici La posizione della sella È molto interessante Sembra proprio Il fan del ciclismo Dell'incarico Che posizione dovrebbe avere Quella sella Ehi tu Spidami in una corsa In bici Ti ha raggiunto una sfida Più veloce della luce Una corsa? Molto bene Però se vinco Dovrei smetterla Di sfidare tutti i passanti Ok? Ok va bene Ora sfidami E che la corsa sia leale Dovrei dirlo io a te La mia bici è imbattibile Dai Luna Metticela tutta Cominciamo quando sei pronta Perfetto Pronti? Vogliamo dare via alla gara Certo Ok Sono pronta Finalmente Però Se vinco Eh sì vabbè Ma è una promessa Sì Devi arrivare a primo posto Se vinco Devi mantenere la promessa Eh però arrivo a primo posto È cavolo È normale In posizione Luna Vince chi arriva primo Mettio chi è questa gente? Monta solo la tua bicicletta Scegli un percorso E fai mangiare la polvere Ai tuoi rivali Trovi potenziamenti E gli okai Maledettamente fastidiosi Stringi le curve E mettiti in piedi Per schizzare via Come un razzo Yeah Perché mettiti in piedi? Ah porca sozza Già li siamo male Ah non ha preso il video Ehi 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 Mannaggia Dai Uffa Questa la perdo Maledizione ragazzi Niente Vince quello Per stavolta Dai Ah ma abbiamo Due giri abbiamo Allora no Forse non vince lui Chissà No mi rallenta Quello Da dove sto? Mer 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 Ah Niente ha vinto Quello stavolta Dai Ci picchia Devo capire bene Come funziona Il percorso Dai Se non mi incantavo Lì un attimo All'inizio Mi sono un attimo Fermato All'attac Allora ci vuole Un minuto Per vincere Dei fare il tempo Di un minuto Quindi se sbagli Anche di un secondo Perdi Accidenti Ho perso Per un pelo Mi trovi sempre qua E facciamola Tempo migliore 53 3.36 Buono Buono Al secondo Trai Perfetto Uh Buono Molto facile Se avessi preso Anche L'altro L'altro Vigorium Avrei fatto 50 secondi Il tempo Proprio Credo Migliore Che si possa fare Oh no Peccato Che diamine Quello è Zardo È uno Yokai A cui piacciono Le sfide Capisco Per cui quel tizio È stato Incantato L'azzardo Per questo Stavo aspirando Tutti Indiscriminatamente Per il momento La sfida Si conclude Qui Oh no Che caso È chiuso Allora Le bici Sono davvero Fantastiche Guarda come Gira e bagno La catena Ah Perfetta La percepisci Anche tu Vero La bellezza Di una bicicletta Sono fantastiche Vero Le bici Sono Così Espressive Le bici Sono Espressive Stai solo Sparando Aggettivi A casa Beh può essere Si vede Che te ne Intendi Ma che Diamine Stai stato La bici Per tutti A Campofiorito Offrano Un'ampia Gamma Di colori Tra cui Poter Scegliere Oh Sembra Interessante Si è Fantastico Mettiti in Sella E pedala Via di qua Le strade Del mondo Ti aspettano Ma abbiamo Fatto Così Facile Facile Ho allenato Leggermente La squadra Dal livello 8-9 Fino al 14 Più Forte Di tutti Automobilina Radiocomandata What Oddio Ti prego Primo Premio No Di uno E sfera Grande Quanti punti Dava quella Bene Parliamo Con Blantapiro Per un'altra Missione Blah Oddio Ma questo Sapiano Ehm Voler fare Amicizie Galattiche Accettiamo Questa Missione Allora Va bene E questo Cos'è Mi sento Così solo Nell'universo Vorrei avere amici Così solo Nell'universo Ehm Il cliente Che ci ha segnato Questo incarico Sei tu Sapio No? Eh Ma certo Non è nessun amico Yokai O mi sbaglio Sapio No? Beh Da punto Sono uno Yokai Soltanto da poco E poi anche tu Non hai amici umani Invece ne ho Anche se non sono Così tanti E beh Allora non c'è nulla Da ridere Va bene Vediamo cosa si può fare Diamo il via Alla missione Un amico Perusapion La prima cosa Potremmo unirci a un raduno Sì? Che raduno? Di astronauti? No Non proprio Ma ci sei andato vicino Un raduno Di internauti? Cioè Gente che naviga in rete? Suona spaziale Geniale No? Vediamo se ce ne sono In programma Su Kainet Va bene Ah eccole uno È proprio un raduno Bene vediamo A tutti gli yokai Che non hanno amici Raduniamoci qui Fa proprio a caso nostro Andiamoci Non sarà un po' pericoloso Il solito fifone È un'occasione Per conoscere Nuovi yokai Ehm Il punto di incontro È condominio tranquillità Stanza C102 Ah È condominio Nelle vicinanze Di corso Del commercio Non conosco la zona Quindi portamici tu Luna Certo Ci penso io Andiamo a raduno Quindi gli yokai Si radunano Nella stanza C102 Spero non sia chiusa Ma stava qui? Ah È un portale bizzarro Facciamolo E abbiamo vinto Stanza da battaglia Raccogliamo la sfera Eccola qua Queste sono importanti Ragazzi Serviranno poi Una volta in America Per andare ad affrontare Come già detto In un altro video Appunto Quel portale enorme Dove c'è appunto Quegli yokai Tifocchio Tornocchio Ciclocchi Insomma Tutti di quella famiglia Dunque Siamo qui a condominio Questo è condominio C'è giusto Eccolo qua Oh Strumento Giambo Teglie in ghisa Servirà sicuramente Qualche fusione Quindi 102 È questa Siamo arrivati Al luogo disegnato Per il raduno Lo tengono qui Entri amus Sapion Ti senti pronto? Sono un po' agitato Dire vero Eh già Vediamo un po' Che ci sta Ah Wow Sono tutti qui Oh Forto sapion È il momento Di fare nuove amicizie Ce la mettono tutta Ah Così Nessuno vorrà essere Mio amico In ogni caso Maledizione Non è vero Io voglio essere Tu amico Ma non ti piacerà Nemmeno un pizzico Come fai a saperlo? Proviamo con un altro Lo so Hai visto l'ultimo episodio Di Senior Bell? Oh Bell Non lo so Di che stai parlando? Eh? Non conosci il Senior Bell? L'ho visto Ah L'hai solo Visto? Tutto qua? È tutto quello Che era dire? Io con te Non ci parlo più Proviamo con lui Mi chiamo Usapion Usapion Hello Eh Non far caso a me Ma Non preoccuparti Quindi per tutto questo tempo Usapion 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 Che vuoi da me? Eh Che ci fa tutto solo? Il mio nome è Solo Sol Qualche problema? No È che Dato che sei solo Potremmo parlare No grazie Preferisco stare da solo Hello Che fai? Kynet Kynet? Perché sei venuto a raduno se resti incollato allo schermo? È così assorto che nemmeno ascolta Non è stata proprio una grande idea Non sono riuscito a rompere il ghiaccio con nessuno La atmosfera non era granché amichevole Erano davvero interessati a fare amicizia? Non ho nessuna intenzione di partecipare ad altri raduni Trovare amici è difficile quando scopare forme di italiane Non puoi arrenderti lì già Passiamo al piano B Piano B? Dovresti migliorare le tue abilità comunicative Usapion All right Forse hai ragione Preparati Chiederemo a uno yokai molto popolare di darti qualche dritta Uno yokai popolare come... Q-Pistol Ho visto su Kynet che è sempre circondato da amici Adesso si trova a Caffè Eleganza a Valdaro Centro Buongiornissimo Caffettino Caffè e amici top Io Io sto amando questo gioco Io sto amando davvero la traduzione di questo gioco Giuro Questo gioco è fenomenale È perfetto È perfetto Wow Bravi Bravi al team di traduzione Della Nintendo Bravi bravi davvero E però comunque sia Nintendo è level 5 Perché comunque sia Come sappiamo level 5 non ha sedi europee O filiali comunque sia E quindi traducono insieme a Nintendo Buongiornissimo Caffè Top Pare che si stiano divertendo Ma che sono di mezza età allora Right proviamo ad unirci a loro Sto adorando Sto adorando questo gioco ragazzi Voi non avete idea Se cogliete i riferimenti che vi lancia il gioco Voi lo amerete ancora di più Di quanto già nulla miate Già che è il gioco migliore Di tutta quanta la serie di Yo-Kai Watch Ma proprio di tutta Senza Senza meno Poi ti lancia questi riferimenti così in faccia Bellissimo Qui invece troviamo un bell Oh Sfera media Quando controlli tutti quanti gli oggetti E poi trovi queste cose Che bello Ma ecco Qui fuori Vero Ecco Ecco lo sapevo che era qui Guarda Ah c'è anche Carnino Ovviamente c'è insomnia Perché lei è tratta In maniera proprio prepotente Da Qpistol Qpistol Ma per lui magari Dai Usapion Coraggio Diglielo Mi insegna a fare amicizia Ah Tutto qui è facile Facile Cioè easy Ho capito bene In parole povere Se vuoi fare amicizia con qualche Yo-Kai Devi affrontarlo a testa alta Devi affrontarlo Esatto Combattiamo O quindi facciamo amicizia con Qpistol Ora Ma ce l'ho già di là Su in America Ce l'ho in America Qpistol Non posso averlo anche qui Cioè posso ma non voglio Buono Sariamo attrici con Sobron Sobron ci vuole un sacco di tempo a salire Perché è uno Yo-Kai di rango S Ragazzi Insomma Ci vuole tempo con lui E così la sfida è andata Non ti fai scrupoli eh Anche tu non sei niente male Ora siamo amici Qpistol Vuoi riluminare Qpistol Ma vediamo i nomi Quoramor John Snow Cupido Amma mio John Perfetto Galattico Evviva Oh conosci questa app È indispensabile Ah anche qui circoli Yo-Kai Beh sappiamo cos'è un circolo Yo-Kai Sembrotirissima Geniale Quanto mi ci si potrà fare con questa app Luna Quest'app è solo per gli Yo-Kai Oh Beh A me ne ho trovato di nuovi amici Possiamo considerare questo incarico completato Giusto Sabian? Grazie Luna Sei stata super Do you want to be my friend? Ok If you wanna be my lover Però Sono amici non amanti Che bellezze Modellino di razzo Ma stiamo raccogliendo oggetti E' tutto spiano qui Espera Espera Ciambella Mi consolo con la ciambella E accettiamo Per forza qua abbiamo accettato l'incarico Se no non si va Eh Ah che cavolo Le attivo tutte Le attivo allora Il mio amico è sparito Va bene Ma adesso calmati Che volete? Che ho paura Cos'è tutta questa agitazione? Dicono che gli Yo-Kai Stiano sparando a tempi della retta via Lo sapevate? Sparendo? Già Si dice che gli Yo-Kai Avano a tempi della retta via Non tornino più Uno dei miei amici è andato lì E non è più tornato Preoccupante Dove sei finito? Tremone E' inutile senza di me Poverino Il mistero degli Yo-Kai scomparsi Lo soverò a qualunque costo Conto su di te Bla 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 Fa un po' schifo Ma non troppo Non so cosa ho detto Ok Questo incarico è parte dal manager di Sobobon Ma Oggi non poteva venire all'agenzia Perché il ristorante è pieno di clienti Perciò gli affari vanno Bon Ottimo Mi fa piacere Dove andiamo allora? Sobobon A scintiglia Let's go Non viene perché era qui Accettiamo anche questa La richiesta è arrivata alla vittima stessa OMG Finalmente ho l'incaricato agli investigatori del mistero Bene Dove si va? Dove? 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 Sbrighiamaci Wait Calmati un attimo Il cliente vi aspetta al monte selboscura Andiamo Sapion Speriamo bene No Non andiamo al monte selboscura Anzi Prima andiamo Quella scintiglia Sobobon A scintiglia Quindi è qua vicino Eccolo va E sobobon Eccolo qua va Più grande Sì in effetti Pronti? Sir detective? Sì sono io Nessun caso è risolvibile All'agenzia Conan Investigatori del mistero Galattico Quindi Come possiamo essere utili? Ah Sì Sto cercando una cosa Una ricerca Che delusione Ma faremo del nostro meglio Che cosa sta cercando? Spaghetti Come? Spaghetti Erano le 5 in punto Del pomeriggio Sono sicuro di essere uscito Portando con me Una consegna di spaghetti in brodo Sono passato alla centrale di polizia Per salutare la gente Sono passato senza problemi Al teatro vicino a mia ognuna Come sempre E sono andato a consegnare Gli spaghetti Dipendenti di animazione Ma gli spaghetti in brodo Erano spardine nulla Che caso curioso Andiamo prima Ad animazione E alla centrale di polizia Chiediamo in giro E cerchiamo indizi Il negozio era pieno Qua al ristorante Uno Due Tre Quattro È pieno È pieno Beh Se sei da solo Sì Potrebbe aiutarvi Con la mia indagine Di che indagine si tratta Comunque certo Come posso aiutarti Volevo chiedere Del teatro Avvicinarmi a Unia Ehi Che sto facendo Scondigliata Non c'entra nulla Con l'incarico Ma no Come no C'entra C'entra Sono molto famose Vero Durante l'ora 20 C'è così tanta gente Che dobbiamo essere presenti Vado avanti Ah Ora che ci penso L'altro giorno Hanno organizzato Uno spettacolo Fuori dal teatro Una folla Impazzita Che tipo di spettacolo Uno di quegli eventi Che si organizzano in strada Senza preavviso Un flash mob Potrebbe essere Un'informazione importante Sì ci sono Comuni gli eventi In Giappone Dove le Le idol Performano In strada Ne sei così sicura? Ok Continuiamo a investigare Non abbiamo risolto nulla Oh aspetta Questo lo voglio attivare Questo Questo è un quiz cartello Se non sbaglio Te Questo è un quiz cartello Lo scorso quiz cartello Che non ho trovato Mi avete detto Il Roboian F Fidati Quindi Lo andrò a cercare Lo farò Perché doveva essere Professorso? Non è Professorso Dovrò andarmi un attimo A rivalere gli yokai Allora Andiamo da animazione Allora Dovrebbe essere Questo dovrebbe essere Dovrebbe essere Ispirato Animazione O appunto Don Quixote Che comunque sia Abiti A tema manga Anime Videogiochi Oppure a Mandarake Più grande biblioteca Di Videoludica Di Di fumetti Giapponese Se non sbaglio a Mandarake Ho saputo Ho saputo che Avete ordinato Una consegna Di spaghetti Di recente Spaghetti Ah Sì L'altro giorno È stato strano Le strade erano affarate A casa di un evento E ho scelto La consegna In negozio So Babon Aveva una buona reputazione Non ci avevo mai mangiato Perciò volevo provarlo Gli ho aspettati Per un bel pezzo Sono arrivati Con mezz'ora Di ritardo E senza spaghetti Mezz'ora di ritardo Non ce l'ha detto La trama si infittisce Ok Reso conto Dipendente animazione A casa loro Non ho mangiato niente Tutto il giorno Mi dispiace molto Non è vero Il giorno della consegna Le strade erano affollate Probabilmente a caso Dell'evento Del vicino Armionia È mezz'ora di ritardo Credo di aver capito Cosa è successo Sul serio? Comunque Mi mancano ancora Delle informazioni Come hanno fatto Gli spaghetti a sparire? Molto strano Non possono essere spariti Devono essere stati rubati In quel caso Il ladro deve aver approfittato Della folla Come distrazione No 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 Aspetta un attimo Diamine Stiamo parlando Gli spaghetti in brodo Probabilmente erano fumanti Qualcuno se ne sarebbe Accorto di sicuro Probabilmente sì Ma solo se il colpevole Fosse stato un umano Come? Uno yokei potrebbe rubarli Senza essere notato No? Sì L'evento era fuori dal teatro Vicino a Armionia Vediamo se ci sono Di yokei sospetti L'intorno Yokei spettri Yokei sospetti Bene 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 Andiamo a vedere Questi yokei sospetti Allora Wow wow Qui Non ho fame? Certo Ottimo Cosa? Cosa? Non è affarmi Ho una fame Ma cosa? Che stai dicendo? Quella bava Quella posa Se uno yokei buongustai Se uno yokei buongustai Sei C'è una ciotola I Se uno yokei buongustai È vero? Ma che diamine In effetti sì Sono un anno fame Uno yokei ha sempre fame Ora capisco Il caso è molto semplice Se c'è qualcuno Che può aver rubato Gli spaghetti in brodo Quel giorno Quello sei tu Nonno fame Sì hai ragione Ha già confessato È il giorno dell'evento Delle vicine Armionia Oh sì Della supplica Degli spaghetti in brodo Tra la folla La supplica Degli spaghetti in brodo Per favore Mangiateci prima Che sia troppo tardi Così ricevano disperati Quando li ho visti Erano già tiepidi Non potevo lasciarli Così a proprio destino Che vai blaterando Gli spaghetti in brodo Non parlano Aspetta Il mio caro sapion Il suo racconto È così commovente Ah giusto Dimenticavo Potresti restituire Questa ciotola Questa è una scodella Per gli spaghetti vuoti È una prova Luna Prendiamola Ma io non lo so Abbiamo stabilito Che sei tu Il ladro Non hanno fame Ma il caso Non è chiuso Che cosa Eh come io lo diciamo Padrone Dovremmo condurre Delle indagini Da Sabobon C'è un mistero Ancora insoluto Quale Luna Mi spaventi Sei molto arguta Oggi Che succede Ah perché Ci ha messo Mezz'ora Da arrivare Giusto Potrei farle Un paio di domande Certo Se serve a prendere I colpevoli Cosa vuoi sapere È sicuro Di aver fatto Recapitare Degli spaghetti In brodo Che Certo Per quale motivo Me lo chiedi Già Perché glielo chiedi C'è un qualche motivo No nessun motivo Così mi andava Certo Se serve a prendere Il colpevole Ah ok Chi è la migliore A uccidare la mia unia Fiona mi piace un sacco Ma non esiste Fiona in realtà Non più balla così bene Che non si può Non ammirarla Sì va bene Altra però Scoligliata Eh ah Ecco sì Forse Ed è arrivato D'animazione Con ben mezz'ora Di ritardo Giusto Eccolo perché In quel fatetico giorno L'evento è iniziato Alle 5 del pomeriggio Un fan Deve vicinare mia unia Come lei Non poteva che restare Ad assistere E così si è fermato Per mezz'ora Davanti al teatro E mi spiace Non potevo lasciarmi Scappare uno spettacolo Del genere È vero Lo ammetto Ho tardato di mezz'ora Ma mi hanno derubato Davvero Questa le appartiene È la ciotola Che mi era stata rubata Hai trovato il coppevole Sì Ma un crimine Ben peggiore È stato commesso Quel giorno Cosa Gli spaghetti In brodo Si raffreddano Se non vengono Mangiati più presto Seppur ormai Inservibili Qualcuno Li ha rubati E mangiati Così facendo Gli spaghetti Non sono andati Sprecati E lei sa Quanto sia grave Sprecare cibo Oh Perciò è vero Colpevole E chi non ha portato A termine La consegna In tempo È lei Oh cielo Hai ragione Dopo più di due anni E mezzo Della ristorazione Ho ancora da imparare C'è sempre tempo Per imparare Quanto è successo Non si ripeterà più L'ora in avanti Gli spaghetti Saranno la mia unica passione Questo è lo spirito giusto Ma è così ragazzo Torna a trovarmi Un altro caso Chiuso con successo Super Lascia fare a noi I tuoi fidati Investigatori Di quartiere Spider-Man Oh yeah A cosa sto assistendo Spaghetti all'altra Tanto per cambiare E sfera piccola E sfera piccola Maledetto Maledetto Puoi continuare con la storia Ma non oggi Non oggi Noi andremo a fare anche le altre missioni Ragazzi Oggi purtroppo va così Dai A meno che lei non mi obblighi A fare le altre missioni A andare avanti per forza Galattico Forza andiamo a casa L'hai detto Ah quindi devo per forza andare a casa Ma così di punto in bianco Ah eccolo Il capitolo Il punto interessante E allora domani Andremo sicuramente A sconfiggere Flaudemone Beh allora io vado Ma come Vai già via La mamma si arrabbia Se scopre che sono rimasto Quare fino a tardi A domani Beh in effetti Sta facendo buio Ah io voglio giocare ancora Seguimi Oh povero topino smarrito Non so perché ma mi viene questa voce con lui Viene naturale farla così Mamma che c'è per cena? Ah è dormentata Eh? La mamma dorme già Ci vuoi scommettere Oh no Blunti Opera tua Avrei dovuto sospettarlo Eh no Io non c'entro niente Sì Scherzavo La mamma schiaccia pisolini In continuazione E Blunti si incacchia Ovvio no Ora silenzio Non voglio svegliarla Dov'è Danny? Sarai ancora fuori a giocare Right? Tra poco farà buio Se la mamma non trova Danny a casa Si arrabbierà molto E firatevi Quando la mamma si arrabbia Non è un bello spettacolo Come tutte le mamme Wow Allora dobbiamo andare a cercarlo Nah lascia stare Alla fine è colpa sua Ma stiamo parlando del tuo maledetto fratello Maledetto fratello Musapion Musapion Eh forse hai ragione Riflettiamo Dove potrebbe andare Andarsi a cacciare quel moccioso Mi pare che avessi detto qualcosa Sull'andare a vedere i dinosauri al museo I dinosauri? Professore so sdravalliti il cavo giusto? Magari l'ha visto Partiamo da lì Tanto non mi viene in mente nessun altro posto No 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 Prima andiamo a finire le missioni Che sono più importanti Andiamo a monte selvo scura Dobbiamo trovare tre indizi per lui Ah sono missioni importanti eh Oh vedo che la missione è bella inoltrata eh Va bene Non è che sia un gran problema Però 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 Eccolo qui va Ah ma qui dove era la casetta Vi ricordate gli ok watch 2? Vediamo un po' Dunque Chicalama ti sei rivolto a noi perché sei vittima di questo incidente Puoi dirci di più su quanto è accaduto? Non rispettare i dettagli Ti sorto a scopare il mio assassino Tago quanto ho spazzato un caso drammatico come questa Per favore non badare a questa sconigliata Fino a ieri ero a Cicola Verde ma stamane mi sono destato da uno yokai Rammento solo che sono stato vilmente fatto fuori e ne un l'altro Hai qualche indizio da fornirci? Lasciate che richiemi la mente quei tragici momenti Ah si ora mi sovviene Ieri ben tre bambini mi davano la caccia Gli scellerati in questione Si chiamavano Joe Edoardo e Andreane sono certo Joe era allungato perché Joe Joe No? Fatti non mi dico i miei compagni di classe E' tra questi sciagurati che si nasconde il mio assassino OMG I miei compagni di classe sono accusati di cicalicidio Cicalicidio So che ti trovi in una posizione critica Ma dobbiamo fare giustizia Giusto Andiamo Sabion Troveremo il colpevole Lo prometto sul mio distintivo di plastica Conto su di te donzella Forse stanno lì al campetto della scuola Quindi non serve neanche cercarli troppo Ah si eccolo qua Ah ma sono anche in altri punti della città Dang it man Ok cerchiamo un po' il primo Tu Io ciao Joe Oh ciao Luna Sputta la cicala Joe Hai catturato qualche cicala verde di recente? Cicala verde? Ha avuto una soffiata Ti hanno visto cacciare insetti di recente Una soffiata? D'accordo è vero E allora? Ah ah Proprio come pensavo Hai catturato una cicala verde Confessa Ehi rallenta Ho visto molte cicale Ma non ne ho catturate Non mi interessano affatto Ah e così a Giù non interessano le cicale Eh? Occhio Ah se sarà tu eh Come va? Io ciao Andrea Ma non è vero Ma no ma no ma no Ma no lei No ma no No Andrea Nella fottutissima Italia È un nome da maschio Ma non lo capite? Io mi sento Sono triste ora Cacci spesso gli insetti? Sì Ultimamente ho cacciato le cervi volanti Cervi volanti? E cacci anche le cicale verdi? Eh le cicale verdi A me interassano solo i cervi volanti Però non ha il naso lei Poverina Se mi capita di trovare una cicale Non la catturo Andrea non interessano le cicale insomma In effetti neanche a me intera A me non interessano proprio gli insetti Personalmente eh Però vabbè Però vedete come tutto quanto È collegato Io mi chiamo Andrea E il personaggio maschile È in America Dove Andrea è un nome da donna È lì in America Un altro pizzicartello Dicevo Andrea in America è un nome da donna Qui abbiamo un Andrea Che è una femmina Quindi Tutto collegato Sembra un albero Tribù scura A quattro braccia Cioè So come fare quiz cartelli Ma al limite Se no proprio non mi viene in mente niente Ricerco Perché comunque sia poi Mi ci metto a pensare A chi potrebbero essere Gli yokai Che non trovo Quei quiz cartelli Però proprio quando Fino a che non ci arrivo Non ci arrivo Ricerco Tu Io ciao Edoardo Oh ehi ciao Edoardo ti piacciono i fiori Interessante No no Sono per i miei genitori Sì Sì Certo Ora piantiamola con i conveni E vuoi rispondere Alli mi domandi Edoardo Che ne pensi delle cicale verdi Che perché me lo chiedi Non mi piacciono particolarmente Le cicale fanno troppo rumore Capisco Allora perché non zettirne qualcuno Dandole brutalmente la caccia Che senso ha Sono dappertutto E così anche Edoardo Non interessano le cicale È semplicemente morta La cicale vive una settimana E rompono i maroni Come non mai Dunque Occhio su tre persone Il che vuol dire Che le cicale non interessano a nessuno Cerca di non offendere il nostro cliente Appena glielo diremo Povero cicalama Sappi che non ti perdonerò mai Mio infame carnefice Infine saprò chi sei Scellerato Non penso che il colpevole Sia uno di quel trio Ma è inammessibile E così A nessuno interessano le cicale Per niente Cioè Chissene Poverino Razzo di Vuoi tenere a freno la lingua Sorte crudele Perché mai Il mio fatto si è compiuto Quando ero solo un giovane In berbe Fu a solo un mese Della prima volta Che vedi la luce Quel giorno Oh che mestizia Che brillante avvenire Avrei avuto dinanzi Ah Ora tutto ha un senso Ma cosa Ma che diamine Scellerato Ordunque La tua identità Sarà ora rivelata Cicalama Riporterò Quanto hai detto Tu stesso Fu a solo un mese Dalla prima volta Che vedi la luce Quel giorno Cioè veritiero Ebbene Vedi Le cicale verdi Non vivono Che per tre settimane Eh Perciò Il tuo tragico destino Non è attribuibile A cause esterne Per le mie lame Insomma Il tuo tempo Era ormai giunto Non mi aspettavo Che la vita di una cicala Fia ossia a tal punto Effimera Dopo ben quattro anni Passati a vivere Sottoterra Non stavo più Nella larva Eppure una volta All'esterno Che esistenza fugace Dai non abbatterti Anche essere yokai Non è male In vero Devo convenire Mi concentrerò Sull'ora E qui Carpe diem Evviva Mistero risolto Misteri Tiger Ora manca davvero Una sola missione E poi possiamo concludere L'episodio Eccola qua Parla con fratello Zen al tempio Ah si Qua c'è la stradina Come sempre Ah ma qui c'è il cimiterino Vediamo un po' E spera mini Un cimitero Insomma Non è proprio adatta Ma va bene Ah la spera di cristallo Nel primo yokai watch Qui si Ci si prendeva Per fare volvere il draghetto Si dice che qui ci siano stati casi Di yokai scomparsi Lei sa niente No Ma hai sentito Ma Vedo che hanno yokai con te Sei venuta qui per provare servizi offerti Servizi Oh 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 Sei una principi Ancora manca una I Ragazzi ma che è successo Sei una principiante Vero Sto parlando della fusione yokai Fusione Sembra divertente Proviamoci Grazie di Ti sei già dimenticata dell'incarico Ci pensano dopo Quindi fratello Zen Come si fa questa fusione Perché non provi tu stessa Portami Tensiovaso Lo trovi vicino a un mega scivolo Di monte servoscura Ah dimenticavo A quanto pare Tensiovaso È ghiotto di snack Se vuoi degli snack Puoi acquistarli a sorso di gelo Tensiovaso giusto Lo porterò qui Andiamo a prendere Tensiovaso Bene Abbiamo sconfitto No Eccolo Il terzo Tensiovaso ti viene incontro Certo ti facciamo amicizia con lui Bene eccoci qua con tensio vaso, vediamo un po' questa affusione mirabolante, ecco tieni, vaso antico, forte, si a volte anche gli yokai si possono fondere, ci sono molti yokai che vengono qui da soli per poter evolvere Da soli? Eh fratello Zen, non è che per caso Tremone è venuto qui di recente? In effetti si, ma si è evoluto e ora è... Prodemone! Sono cambiato molto, sono passato da timido a prode, non sembra più lo yokai riscritto da chiacchiere nata, perciò tutti gli yokai scomparsi, in realtà venivano qui perché gli ha aiuto fratello Zen per evolversi Sembra proprio di sì, galattico, caso chiuso, oh oh, torna qui quando ti vai a difendere e fare evolvere uno yokai Bene però facciamo evolvere tensio vaso a questo punto, dai, ok, bene dopo questa possiamo anche concludere l'episodio Selezioniamo, a lui quello è coso per il takoyaki, oh potremmo fare altre fusioni allora Tensio vaso, vai, facciamo due fusioni allora oggi Wow, mio Dio! Ma che è? No! Oddio, anche il cervello di fuori Aiuto! Ma lui con niente, lui con niente, ancora... Tu con spacca cuore, lo so Tu ho ancora nulla, addirittura le ho fuoco Ok, fondiamo lui e lui allora Che creiamo? Penso di aver già capito E forse me ne pentirò Invece no! Ah, takoyaki Deliziosamente regale Deliziosamente regale No, forte! Se è forte lo mettiamo in squadra Se è almeno un rango B Invece è provare gli yokai diversi Va bene, per il momento abbiamo finito con le fusioni Rango B Ha molta difesa, può contrattaccare immediatamente Mettiamo un po' lui in squadra Al posto suo Perfetto Grande ragazzi Buono, 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 davvero Ottimo! Allora, Kuge Questo episodio è stato un po' così particolare Ma Sarà unico oggi Quindi è un po' più lungo Insomma, un unico episodio Invece di farne due Perché non ho proprio tempo oggi Di caricarne due In ogni modo Per questo video è tutto Domani andremo a 100% A fare il boss di Luna Flaudemone E lo faremo sicuramente Lo sconfiggeremo E io come sempre Vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio Di Yo-Kai Watch 3 Vi ricordo come sempre In descrizione i link per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre al prossimo video Bye bye Ciao 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 Grazie a tutti.